ciao amici e amiche marco trans games channel formula 1 2022 e il mitico che vince ok allora ragazzi stiamo giocando insieme e facciamo la lega è legge 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 l'ha fatto amico che l'ha già fatto tu trovano a lega vero la sua mail ok allora eccolo qua soltile accetta ok stiamo andando online amici un messaggio ok quindi adesso io devo andare su lega entrare giusto perché non ha fatto niente ok eventi in programmazione trova calendario schiaccio x o scuderia ferrari carlos science ok richieste invito impostazione elenco bisogna invitare gli altri ragazzi sharder e tutti gli altri poi vediamo quando entrano ok ho risposto allora ragazzi ciao 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 condividiamo la live che non ho neanche fatto ciao l'occhi grande l'occhi peccato che non è questo gioco l'occhi sennò facevamo una mega ciao stream elementi come state come state condividiamo la live raga allora poi partiamo possiamo partire grandissimo che viene ma come si fa a partire prossimo evento certo l'occhi vai tranquillo vai tranquillo vieni dentro a seguire le live ci divertiamo lo stesso è quando poi lo puoi prendere lo prenderai e se no sì ok 80 sacchi di pannocchie Nel campo di Chard Chissà se arriva a Chard Stasera Eh sì Sarebbe bello Non te lo dà Ciao ragazzi come state Stiamo provando a fare la lega E vedere se poi Tutto funziona Perché come sapete ragazzi Anche con Chard Ho avuto un sacco di problemi Abbiamo smesso anche di fare Il campionato Ciao amici Come state grandissimi Marco Grazie a tutti Ok Siamo pronti Ah non fa il giro Bisogna fare il giro Ok Non fa direttamente il giro Ok Porca miseria Mi è appena venuto Un lampatauri Sul cranio Qui sto usando il cambio manuale Ok cominciamo benissimo Ciao amici e amiche di Swiss, come state grandissi? stiamo facendo la prova per fare le leghe io e l'amico Kevin però stiamo aspettando anche voi eh Andrea Vertex chi è che poi ha a F1? Starder Andrea, Starder, Vertex Bravo vediamo un attimo che tempo riesco a fare perchè sta pista qua è un po' forza, forza l'ho portato fuori Bossa What's happen? Browns Splendido, hai appena registrato il miglior tempo un solo giro un solo giro come un viadotto? è no vende i spara-ti fuori del circuito hahaha come in pista come in pista come in pista come in pista 3 3 5 6 Grazie a tutti più 3 secondi addirittura è il momento buono per i pit stop rientra ai box alla fine di questo giro grazie a tutti il serbatoio è praticamente vuoto c'è carburante per meno di un giro meno di un giro buon amici amici di switch grandissimi come state? bass, 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 l' ethnicity di via ok per far andare veloce non si può per far andare veloce le prove non si può cacchio proprio ultimo sei devi fare una gara spettacolare diciamo non so che la combina ok è entrato in box quindi non c'è più nessuno nessuno sta correndo e beh cazzarola quello io ricorda che il segreto per gestire la vettura è tutto nel trasferimento del peso quando freni il baricentro si sposta in avanti quando acceleri torna indietro quando curvi va verso l'esterno più carico su ogni gomma equivale a maggiore aderenza facci piano con i comandi per distribuire il peso in maniera fluida auto pronta a partire liberata in garage mi ha combinato l'amico gas lì sulla prima voce te lo dice ok ok che cazzarola grandissimo stiamo facendo una liga se ti può interessare a giocare con noi online una lega una liga la Bundesliga della formula 1 ciao amico mio Vertex come stai? come stai? come stai? oggi non è il primo giorno perché sarebbe lunedì però oggi è l'inizio delle ferie verte e oggi ho dormito al pomeriggio quindi grandissima figata ciao amici e amici di Twitch ieri sera ho fatto una mega live con i dinosauri è bellissima è stata ti piace poi il gioco dei dinosauri? ma sai cosa graficamente è molto bello l'unica cosa che pensavo che c'era più dinosauri nel senso che si vedevano anche in giro oh cacchio mi spiace Vertex dente boia dente boia e infatti io pensavo che era da boccia a parte che devo ancora provarlo online magari all'online così e lì è partita infatti anche eh ola gra oh per salutarti mi hai fatto mi hai fatto andare fuori pietra Andrea dai vieni a giocare Andrea Gamefor oh è grandissimo amico mio come stai? come stai? come stai? come stai ragazzi? ciao Andrea mi sono emozionato che siete entrati ragazzi sono andato fuori pietra allora al prossimo giro facciamo il tempozzo eh allora chi vuole giocare ragazzi? formula 1 Andrea e stiamo facendo la liga eh puoi invitare Andrea Kevin nella liga o come funziona la liga? ciao amici di P ti puoi invitare? ok ce l'hai tu come amico? ok aspetta che viene il tuo giro Andrea anche Vertex se vuoi entrare anche tu facciamo correte tu e Andrea insieme contro di noi il bello di creare la liga è che si può correre in squadre anche la stessa o anche in squadre diverse Gameforall grandissimo Manuel come stai? ciao Marco ciao bello come stai? grandissimo allora stiamo facendo una liga una liga di formula 1 amico amico ieri sera ho ammazzato tre dinosauri no due dinosauri li ho ammazzati però uno oh bene bene qua da me ha piovuto di brutto c'è rinfrescato un po' il tutto ma acqua da avere nei fiumi no ancora no deve piovere due o tre giorni prima di fare qualcosa che si renda veramente utile per i nostri meravigliosi fiumi e raccolti però almeno non si boccheggia stasera tu? come fa? come fai? come mai ho fatto così schifo? ma perché faccio così schifo adesso? che prima ho fatto un bel tempozzo grande grande manuel grandissimo ragazzi iscrivetevi anche al canale di gameplay for all123 all123 ok che è un mio amico bravissimo manuel fa dei video picchissimi non so se va sul tubetto tu vai sul tubo o vieni qua tu fai solo tubo tu ne manuel non fai anche qui il cettino credo che faccia solo tubo allora credo che sto correndo bene manuel grande man come si fa? sono nel gioco devi aspettare che ti invito io e vai sulla posta grazie intanto solo tubo ok ti aspettiamo anche sul viola eh manuel perché porca miseria l'ho fatta tutta fuori sta cura grande per adesso sul tubo ragazzi si si eh si si se devi riprenderlo amico mio ce la faccio bene l'ho fatta un po' a minchia no 30 secondi al termine della sessione uh 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 aaaaaa no mio dio ehi stai bene spegni il motore e aspetta gli steward è stato un brutto incidente no serio non lo so aaaaaa penso che vale che c'è passata la proseguire la prossima sessione allora in attesa dei giocatori eh ho fatto sì ormai no ritirato ma no ma siamo una cioè si siamo ritirati tutti e due che merda allora si è certo dobbiamo invitare Andrea e eh non ho visto gli altri ragazzi se vogliono giocare adesso invitiamo Andrea ok ok grande manuel grandissimo eh sto portando anche giochi un po' diversi amico mio eh allora invito alla lega eccolo qua amici che giochi acciaio bollente R45 HR vai è arrivato è arrivato amico mio c'è Bimax vediamo chi ce l'ha poi manuel manuel vuoi fare che tu vuoi chi ce l'ha Bimax Steraptor ok vediamo se gli è arrivato posizione in classifica ma si può ricominciare sta classifica vero? eh 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 no caspita 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 allora vediamo se Andrea risponde un secondino perché magari sta entrando ah ecco perché c'avevo il cambio in terza c'avevo il cambio pom 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 è entrato entrato? perfect job allora cosa facciamo? prossimo evento? aperta ok fai il prossimo evento partecipazione alla sessione se devi fare devi andare in Lega multigiocatore Lega no sei già dentro bravissimo hai già scelto la MG Petronas la Mercedes allora se qualcun altro vuole entrare ragazzi me lo dite subito perché poi dopo cominciamo e bisogna aspettare la prossima gara perché comunque si può entrare anche un po' alla volta vabbè nessuno sta scrivendo andiamo mettete pronti va Rhein e siamo praticamente ultimi tutti e tre perché Andrea non ha potuto fare la qualifica io cosa sono? io sono primo mi sembra eh sì perché hai preso casa? ah tu hai preso casa lì sei fuori ah grandissimo va bene va bene grandissimo Emanuele grazie per essere passato via non male la partenza e ricorda di scaldare anche il treno e come fai a dirmi ricordati di scaldare i freni se sono primo e devo frenare la prima curva non posso scaldare i freni ma c'è ah Andrea poteva anche entrare in fatti eh Andrea dopo ti invitano in fatti eh perché non non ci penso mai a fatti nooo nooo perché che cazzo hai fatto che cazzo hai fatto ma ancora con questo gaslì ma lo spiegate questo gaslì che ti ha fatto pochettino dai che è lì ancora ma anche prima anche prima la gaslì non lo so non lo so se vuoi che usciamo Andrea dimmi qualcosa così usciamo rifacciamo facciamo la qualifica e ti metto dentro nel fatti se vuoi vediamo se scrive qualcosa Andrea se vuoi riparla riscomponimento griglia di partenza perché perché ripristinata parcheggio errato riformazione della griglia di partenza puoi giocare sta rifacendo la griglia di partenza ma tu ci sei aspetta aspetta che ti invito dentro nel party Andrea poi se vuoi entrare entri se non vuoi entrare vai tranquillo come vuoi tu davvero arca miseria ok porca porca rimane fuori che la repubblica è troppo caldo va bene amico mio tranquillo senti quello che diciamo dalla live granissimo ma perché si è ristartata non l'ho capito ancora madonna che è riduci la velocità il delta è troppo basso e rischiamo una ma perché era di partita non l'ho capito immediatamente ce la sapete non l'ho capito devo stare tutti dietro a me vero ma che li faccio che li faccio inculare ahahah fermi tutti e io il quarto via 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 qui si felicità perché? oh ristartiamo ristartiamo ok si 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 come si fa a ristartare? allora facciamo così torna al menu principale rifacciamo proprio tutto che così facciamo anche la classifica usciamo proprio al massimo la rifai la puoi rifare da capo perfetto lo rifacciamo Andrea allora bisogna fare abbandona lega credo allora abbandoniamo la lega abbandona anche te mitico adesso l'hack sta creando Kevin come state ragazzi io sono veramente stacco ragazzi veramente stianco grazie a tutti sta facendo ragazzi solo un secondino di pazienza e ragazzi e ragazze come state e sabato sera sabato sera doveva esserci anche Carla e invece non so dove è finita babbo fa un caldo caldozzo si dai fa quella lì che è meglio così lasciamo fare più allora ti parla via tu allora andiamo a vedere passpodio posta negozi oggetti brand amici il crossplay deve essere acceso ok accetta io entro e invito Andrea allora questa e adesso scuderia Ferrari Carlo Sainz è selezionato ok allora invito alla Lega oh perché non me la fa fare è tipo spento ah ok forse mi deve far mettere amministratore prima ero amministratore adesso arriviamo Andrea non ancora sì sì Marco è l'amministratore è vero e forse adesso c'è esatto ecco ti qua Andrea vai vai è arrivato è arrivato te l'ho mandato adesso amico sì sì è privata siamo solo noi perché voglio farla solo perché voglio farla solo tra di noi dovrebbe essere arrivato eh vediamo se l'è arrivato vediamo se riesce a entrare l'amico Andrea prima era entrato subito sì rinvita c'è dell'acqua baby ciao ragazzi arriva a attacarla allora non ti vedo più sinceramente ha un po' di problemi eh mi sa il server qua di sto megagioco vediamo se se funzionano amore mio non riesco più a invitarti è entrato è entrato è entrato è entrato è entrato vai go 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 vieni mi amor arrivo io via 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 ci sono grande andrea grande andrea che stanchezza amici miei scade tra 29 minuti per partire minchia ciao andrea so c'è nell'area perché c'è nell'area perché c'è nell'aria eh eh mi dice sto al chino nell'aria oh che fallo guida il boss il posto tuo nooo è scuro non puoi entrare ma qui è un giro unico ok sì sì fatto bene è tutto strano che gioco guarda Allora Andrea! Eh sì, credo proprio di sì. E tu sei terzo? Sì. Andrea, bravo! Mizzicò! Siamo i primi tre. Proseguire cosa vuol dire? Sì. Ok, Sergio Perez, però sei... Come Sergio Perez? Sergio Perez sei tu? No. Ah, la Red Bull. Tu cosa sei allora? Ultimo. Eh non so, ma te l'hai aperto Perez. Sei in gara? Stai giocando? Ok. Mi raccomando, finiamola eh. Ok. L четы fogs la pausa. Ci sono... Benveni! ho tirato lunga la staccata va dai sei riuscito ancora ciao amici di twitch buona serata a tutti marzo drance kevin andrea stiamo facendo la lega la liga a 5 hai fatto? ah ok ok va bene 5 giri così se per caso uno sbaglia non è sbagli 5 giri se c'è un'altra dopo non c'è un'altra dopo Grazie. 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 Bello ragazzi, ciao amici, come state? Un po' di Formula 1. Grazie a tutti. Mancano due giri, vero Kevin? Grazie. 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 Ah questa la odio Questa la odio Destra sinistra, destra sinistra, destra sinistra Mamma mia Qui vincerà al 100.000 per 1.000 Andrea, Andrea è già vincitore Di questa gara Per quanto mi riguarda la odio No no no, te lo dico io Questa qua l'ho fatta a 70 giri E dopo 70 giri Dopo 70 giri non l'avevo ancora capito Ma cazzo era sapesa Questa è quella che ha tipo Destra sinistra, veloce Questa sono sicuro che Andrea farà Il botto, vedrai chi fa Io ho già fatto tipo un casino Eh sì, c'è destra sinistra Poi c'è il curvone qui Vi attimo Andrea e Kevin La foto la giocavamo online Eh? E se è brava la trovava Prendi la 1 Eh 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 Dragali ti saluta Kevin Sta correndo Ciao Carla E' un bello con generadino Adesso vedi Che Andrea Mentre sta facendo il tempo Di schiaccare Ti immagini Forse di Eh Con una mano Fa il tempo con una mano Allora non è assurda Come pista Vieni mio amore Non è assurda Come pista Ma bisogna capirla Io non riesco a ricordarmela Quando è stata sinistra Che è successo? Nooo Dragon Open the dragon Record in Arabia Saudita Bello Vieni mio amore Eh perché spediamo Questo l'ho fatto Ciao Carla Andrea Grandissimo Andrea Ciao Che bella però Arabia Saudita Eh sì Forza Forza ragazzi Forza Parte il Gran Premio Di Arabia Saudita Voi tre? Sì E' una lega Quindi ci sono tutti Ma siamo io e Kevin E Andrea Poi se entrano altri Possono entrare Kevin ha fatto un bordello Nooo Perché? Cosa è successo Andrea? Nooo Scusa Scusa Andrea Eh Kevin Che sportella Tutti Kevin sembra un po' Carla Andrea Vai Kevin Dai la vinco per te Amico mio La prossima La farei tu eh Grande Andrea Ma se non c'è a te Che è ancora più Sì mi dici no? Che bella Questa non è male Per farla te Amico Ma provo a guardarla Se ci trovi Ci sono due pezzi Che bisogna frenarvi brutti È veramente Eh? Sì Ha sbinnato E bellissimo Andrea Il Granissimo Kevin Ha sbinnato E fatto un casino E non ha capito più niente Ah 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 E vabbè dai Scusa scusa Ma vai tranquillo Queste sono le gare Amico mio Alla prossima Vincerai sicuro Ho sbinnato Hai sbinnato Eh Sarai scodato Sei andato lungo Cos'hai fatto? Non lo so Io sono davanti ragazzi Eh infatti Non sa neanche Non sa neanche Di aver sbinnato Ah 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 Bellissimo Sì infatti Sì sì Che gioco Che gioco della minchia Perché dovrebbe scattare Eh beh Se io vado sotto uno Mi deve spaccare a me Se spaccare due Invece Invece Faccio E se hai rinnovato Tranquillo E il gioco E il gioco Della Carla Questo qui Che si batte fuori tutti Ma lei arriva È mio amore Hai visto che bella La sigla che hai trovato oggi La copertina Non mi ha detto niente Dentro del corpo Sì Tu che vai a manetta Amore Le fanno mai Dai che finiamo Finiamo in fretta Amico mio Andrea Stai in fumacino siga Che arrivo Arrivo La vinco per te Amico mio Questa liga Mi sta piacendo un botto Sì sì Si è battuto fuori No no Si è battuto fuori Che è il tranquillo Senza danni Lui fuori Distrutto È la grandissima Eletronica Ragazzi Eh sì È lui con la Ferrari No Il mitico Andrea aveva la Versace la Red Bull Io vedo l'ora ragazzi Vedere la Red Bull con il motore Porsche Cosa combina l'anno prossimo Per te Andrea cosa vi è salta fuori Red Bull motore Porsche Alle prime armi Eeeh Sol che fa il tempo Maronna Eh Cazzo Sì Ah Tutte cazzo C'è proprio un disastro Oh mio Dio Non tiene più C'ho l'ala C'ho l'ala andata Porca loca ragazzi Eh lo soccato nel muretto Male ma non malissimo E io questa l'ho fatta come seconda gara E' tosto E' tosto da imparare Nel destra e sinistra lì Per farlo veloce Bisogna veramente imbloccarle Tutte giuste E' bellissima Sì sì Dove è Verde come il tuo cuore Allora rosso come il tuo cuore Verde come il cuore E' da qua Mi scherzo mio amore E' una roba bellissima da dirti Una roba che ti dovevi togliere Verde Eh Che sta E' una roba che ti dovevi togliere Domani Questa è una grande video Ok Porca loca L'altra ala No Per guardare la mia bellissima moglie No Altra ala Perché è stato a faticare? No Sarà qualcuno che ha fatto il botto No C'è lì c'era la faticare Ma non era stato a faticare Era Era Sì La fattura E' data addosso Quando era galla Perché C'hanno 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 il recupero dell'energia C'hanno il motore elettrico E' una roba che sta No E' un meccanico Però c'hanno anche i motore elettrico Sono i bri Sì E' un po' di E' un po' di Sì Sì E' un po' di C'hanno il recupero dell'energia E c'hanno il motorino elettrico Perché C'ha un po' di Cavallo No Se la for due Ma fa cagliare Forse devo far 5 giri O 10 giri Perché Si scarica le batterie Sì Sì C'hanno il recupero Di energia Dalle frenate Ma Fai 10 metri E' ancora troppo presto L'elettrico Come tutte le tecnologie Costa troppo Costa tanto Produrlo Non lo conoscono ancora bene Non va a niente Non Tra un po' di anni Sarà Stop Stanno facendo le batterie La sabbia Stanno facendo le batterie La sabbia Sola sabbia Che tengono un botto La sabbia Stanno facendo le batterie Sola sabbia Grande Dove è d'acqua Chi va dove l'ha messa Maore Stai rischiando Guarda Kevin Penultimo Senza Non fa vedere Perché non puoi far vedere Replay Su online Drums vince Eh Questo non è Replay Fa vedere il gioco Però Allora Drums fa Giro veloce La gara tutto primo Il più bravo è stato l'Onso Va bene il gioco Ok Dai Andrea Adesso questa qua Comunque è un gioco baggato Perché ho fatto tutto io E il più bravo è stato l'Onso Andrea Non è possibile Non è possibile Grande Drums Non so neanche chi è questo qua Da la faccia non lo riconosco Sai è Sainz Può essere che è Sainz Ma non lo riconosco Da la face Ciao Vicky di Twitch Ho vinto Drums Marco Drums Games Channel Marco Sainz Questa lo conosco Questa qua c'è in tutti i box Eh sì 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 Eh no bravo bravo Andrea Si fa così Si fa così Kevin Bravo bravo Sportività prima di tutto ragazzi E se si sbaglia si chiede scusa Sempre E se si rimane in pista Se il gioco non ti butta fuori Si dà Si dà la posizione Grandi grandi ragazzi Dai 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 Allora 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 La seconda che vince Drums Non fatemi prendere il vizio di vincere Che poi ragazzi È incredibile Incredibile Si sai Andrea? Ogni tanto va bene Che vince di te Eh sì Eh sì Eh sì Ma è bello che non ti sei fatto nulla Sì infatti È quello di coltivo Incredibile Misteri dell'Electronic Arts Questa qua Misteri Non sono i misteri della fede Ma sono i misteri dell'Electronic Arts Perché credo che qui a questo punto Codemaster ci entrerà poco O a meno che I server sono Codemaster Ma comunque c'è il direttore dell'Electronic Arts Che avrà detto Raga qui comando io adesso Mettiamo i server come quelli di Butterfield Una merda Ragazzi Butterfield Perché siamo vecchi amore Ma come? Che cazzo stai? Dai un bacio Mi sono i miei stai per finire Mi sono i miei stai per finire Bello Siamo i miei stai per finire Sì Bellissimo Sì È stata mezz'ora Mi sono i miei stai per finire Mettra testa Ehi Eh Eh sì Come va? Sono molto stanchissimo Spray Ho dormito anche oggi pomeriggio Sì esatto Eh oh che cazzo devo dire Senterò le ferie Andre Allora Vincerà senz'altro Andrea Allora Adesso qui si impegna Sì qui è per Ah qui ha capito cos'è Australia Sì Porca lochissima Di solito non sbaglio mai Australia Stasera Sì Sì Perché cosa è successo? Ha buttato fuori? Ha sbattuto lui No Andrea Va bene Tanto adesso parti È solo È solo la È È È È È Marco Traus per la terza volta Ragazzi Ditelo che state facendo apposta Io ringrazio Kevin E anche Andrea Per far finta Come dico in tutte le live Ragazzi Siete ospiti miei Dovete far finta Farmi vincere Vi ringrazio Vi ringrazio Continuate così Continuate così Ragazzi Continuate Continuate così Continuate così Sempre primo giorno Kevin Vai tranquillo E Andrea? Domani si è pronto gioca Quindi domani E vabbè Stasera è così Poi non giochiamo più Poi non gioco più con voi Formula 1 Andrea ride Ride e arrabbiato Eh sì Ah perché Kevin mi ha detto Che c'era staccato Dalle lego E mi è piaciuta Poi bello Poi è 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 bello Di cavolini Bruxelles Che era Era di fianco Era sto ceno io non so davvero nella realtà come fanno a essere in mezzo tutti e 10 aspetta la strada va dritta Hanno fatto i box. Adesso stanno facendo tutti i cittadini. Non c'è mai ieri. Cittadini. Cittadini. No, no, sta distante. Infatti ci stavo dicendo prima, non so davvero anche loro nella vita, nel live, nel real life, come fanno quando sono dietro a superare a fare il formula 1. E' veramente una roba assurda. A non toccarti dentro. Eh sì, perché loro vanno sul dritto, l'unica cosa puoi prendere nelle curve, però rischi di toccarli dentro. Devi qualificarti bene, Kevin. Devi cercare di qualificarti bene perché... Eh, se no è un disastro dietro. Hai registrato il miglior tempo, continua così. Si, si, guarda in giù. Marco Drown's Game. No, sta fitta mi piace. Eh, amo? È bellissima. Nonostante sia un cittadino, è un cittadino di quelli che gli piace. E' un po' un po'... Si può snychchiare un po'. Ah, si doveva rialatare. Si rilassi il caso? Non è? No, no. Questo divano è assieme a noi. Rialati da noi. Siamo più buona. Grande. Sedi? Eh sì, senza ammazzare. È mezzo pianeta. Sì. Sì, questa parte è stessa. Però viene chiusa, questa acce viene chiusa. Questo è un pezzo fatto e poi qua c'è la strada. No, questo è iconico. Questo qua è una vita che c'è. Eh, non è che tutta l'Australia è un'isola, eh? Sì. 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 Hai preso? No. Laggando? Ah, ok. Sì. Eh, gas lì. Sì. C'era gas lì davanti che stava laggando. Sei all'ultimo giro. Sì. 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 Porca noca! Ho quasi perso la gara ragazzi. O rosso! Eh sì. Perfetto. Oh, grazie Alex! grazie alex grazie alex stiamo facendo una bella lega alex grazie grazie dopo ricambio follower finiamo sta gara che ho il l'alettone scassato grande allora la dedico ad a aspetta ad alex ad alex il nuovo iscritto a questa gara è dedicato a te la vittoria alex grande ecco qua che ti ricambio follower no perché fuori marco mi sta io mi fa troppo incavolare ma vai tranquillo grande 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 alex grandissimo la tifi della allora la tifi del pit è uno strunzo anche prima a kevin la tifi ha fatto un bordello bella lì marco drums soul killer il pilota del giorno quando farà marco drums che vince fa il tempo pezzo di mh ma tu stai solo qui fai niente lui marco drums non fa nulla ragazzi questa è la novità eh il primo che arriva non fa nulla bella lì alex grande sei verde come colore di twitch bello 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 no davvero è che gioco del del cappio del cappio che del caspio del caspio bello eh bello bello andrea gioco del caspio per fortuna che marco drums ce è ragazzi marco drums c'è 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 ce è stanchissimo e si marco ma è stanchissimo Allora, al mondo al tuo cospetto Vinci tre garozze online Grazie ragazzi che ho vinto Dai, vediamo la prossima Absolutely Allora ragazzi Andiamo, andiamo, andiamo Allora, questa vittoria L'ho dedicata all'amico Alex che si è Iscritto stasera, grande Alex Allora, dai, forza ragazzi, iscrivetevi al canale Dai che arriviamo a 630 630 entro domani sera Dai, 630 amici Entro domani sera, guarda che bella Olivia La prossima Se è Monaco, ragazzi, no, no Imola, Imola, Imola Ma sono Come, le gare le hai messe Come, come, nella realtà C'è una dietro l'altra, così, sono Ok, bravo E' bellissimo Si E' bellissima Ma c'è un sonino Allora, ragazzi Se no, corrivi anche tu, eh Vero, mio amor Allora, la pista mi piace tanto Perché c'è tutte le bandierine italiane Però Quella S Destra e sinistra La cacchiarola E' sempre il mio stallone d'Achille Eh, no Eh, no Allora, vediamo un attimino Drams che lo fa Allora Sì, beh Con quello che costa Se la mettono dentro A benzo Vediamo un attimo Oh, grande Drams Ma, l'amico Ah, Alex ha riscattato Bevi Grazie, amico mio Dammi Ci sono i miti coin, Alex Eh, ci sono i miti coin Fighissimi Che mi fate bere Ciao E mi fate Anche pettinare C'è anche il pettine, amico mio Eh, io mi pettino Solo quando vedo Pettine Un po' meno Anche pettine Grazie del bere Se no mi dimentico Madonna E' proprio un Eh? Un sacchettino di patate Olivia Un sacchettino di patate, ragazzi Allora, allora Oh, Andrea è di fianco Andrea è di fianco, raga Attenzione Attenzione Battaglia Battaglia, battaglia Sì Un po' malino, eh Sare come sarebbe, mio amore Porca C'è i sattolini, tu Eh, sì Tu hai fatto di boccarla, è vero? Eh, qui vedo Vedo Andrea Quello ha guerrito, eh Tu che hai visto? Cosa sei? Oh, porca miseria C'è il testo Per certo Vabbè Pian piede non impari Oh, amico mio Cacchio La destra e sinistra E' terribile Terribile Mentre hai fatto la cambiare Mentre hai bocc, hai fatela cambiare? Sì Eh sì, devi imparare Sì, amico mio Kevin si ha spaccato pure l'alto Sì, è Kevin Sì, è Kevin Sì, è Kevin Hai fatto l'obiettivo dei primi cinque punti? Ah, ok Questa riesco sempre a tagliarla un pelino Sta cavolo di S È andata? Ti ha scritto, mio amor? Sì, assolutamente Assolutamente, Alex Il requisito era iscriversi al mio canale Quindi ti sei già scritto? Quindi assolutamente sì Tu hai il Formula 1 22? Sì, sì, sì Adesso andiamo avanti ancora, vero ragazzi? Kevin e Andrea Perché se vuoi Orca sul PC Non lo so se hanno aperto il crossplay Se possiamo, volentieri Ma sul PC Come hai il nome? Eh, perché su PC come facciamo? Boh, non lo so Credo di sì, Alex, eh Axel, giusto? Axel, no, Alex Scusa, scusa Alex Alex, no, allora, giusto Non so come si faccia, sinceramente Non ho mai provato questo gioco da PC Possiamo provare? Possiamo provare? C'è il crossplay Eh, ok Non è attivato adesso Adesso lo attiviamo Se riusciamo a Tranquillamente proprio Amico mio E poi tra l'altro Se hai tanti amici O pochi amici O i parenti Portali tutti sul mio canale Amico mio Se hai l'account del Cagnolino del Gattino Fai l'iscrizione a Marco Drano's Games Anche a cane e gatto Mi raccomando Più follower siamo Meglio è Devo fare l'account a Olivia Però, eh Olivia è cagnolino Aia, io vedo agguerito Andrea sta arrivando Eccolo che ha fatto il tempo Lo vedo, lo vedo guerrito L'ho visto Andrea Andrea ha fatto il tempo L'ho visto a fuoco Non è male questa Imola però, eh Ecco tutto qui Ciao amici e amiche di Twitch Come state ragazzi e ragazzi Buona serata a tutti Buon sabato sera Nooo Andrea Nooo Eh, ci vede che ha toccato dentro qualcuno Vabbè Andrea Non c'è problema Amico mio Stai qui con noi In chat Dai, dai Questo gioco è È un po' Il Nurburgring Ti viene addosso Sì, sì, sì Lo so, lo so Lo so Eh, lo so Lo conosco Ah, no, no Dai, solo parolacce No, allora stacca Stacca Però stai qui con noi Dai, tanto non facciamo ancora molto Una mezz'oretta Poi stacchiamo anche noi Vero? Mi amor Che siamo stanchi Mi è piaciuto comunque giocare con te Perché quando andavi forte Eh Uè Eh Eh Verze Ciao Carlo Ciao Verze Verze Grandissimo Verze Ok, bravo dai Bravo Andrea Così ti voglio Bello Alguerito Sì, sì Carla Le macchine Le macchine Due volte Le macchine Sì, Carlo si arrabbia E poi No, no Basta Basta Dai Grande, grande La prossima Sì Sì Di modo è bella c'è solo la S che per poter andare veloce no non si può è una Liga è una Lega è come se fosse un campionato un campionato online ma per invitare Axel Alex vedi che l'ho chiamato giusto prima poi ho cambiato il nome e poi ho sbagliato come facciamo con il crossplay Kevin? ho fatto anche il girozzo velociotto allora io ti chiedo scusa Alex facciamo ancora un paio di gare e poi chiudiamo per stasera se possiamo provare a giocare insieme magari domani o lunedì che abbiamo tutto il tempo di fare le prove per il crossplay perché non sappiamo come si fa Andrea ne farà un'altra credo e poi stacca e io penso che ne farò altre due gare e poi stacco proprio perché sono veramente stanco Alex se non ti dispiace giochiamo insieme ma ecco proviamo la prossima volta così vedo un attimo anche di informarmi come si fa il si probabilmente farò anche il Formula 1 beh vediamo comunque domani o lunedì Alex sicuro poi se vuoi guarda ti metto anche il link di Instagram dove cazzo è il mio telefono? ecco ti metto il mio link di Instagram così lì su Instagram tutti i giorni io posto che cosa porto perché porto un sacco di giochi si è anche un gioco di dinosauri Andre è esasperato ah no amico mio dai si i boss sono son boss e chi ha vinto? chi è stato il più bravo ragazzi? Gasly 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 che vi ha buttato fuori tutti Gasly non ci credo ragazzi gioco buggato e se ti puoi interessare amico mio ti linko anche il mio YouTube comunque su tutti i social eh WeChat Discord tutto 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 sono come Marco Drums Games ok bella lì non ci posso credere quattro gare online quattro gare online vincitore Marco Drums Games Channel amore minchia si stacca tapp vabbè no oggi non so oggi fa caldo andrebbe anche bene Bottas che rompe la Tifi che viene addosso di proposito e lo promuovono a miglior giocatore del giorno eh il migliore è stato la Tifi vedi tu tutti i fori roti tutti i fori roti è incredibile è incredibile ragazzi per fortuna che Marco Drums c'è che porta avanti l'onore della squadra Ferrari anche l'amico Kevin deve imparare a fare le cose eh amico mio questo che cos'è che era? se qualificava da nulla eh lo so la conosco e vai ma sì ma vai tranquillo Kevin l'importante è che ci divertiamo mi voglio mi voglio imparare eh perché è bello come gioco eh ma difficile ma conosco perché vedi invito Lega qui si dovrebbe dovrei trovare anche l'amico Alex però non so come si fa quindi dai la prossima volta proviamo e vediamo se riusciamo eh non so come si faccia cioè perché sulla play oh no Miami no mio dio prevedo i santi anch'io però io non posso dire le parolacce quindi vedi tu no Miami no numero insignificante sì sì Andrea viene ha detto che viene numero insufficiente di persone ma come mai ok perfetto bravo eh beh online fa un po' schifio eh sì non parte se non ci sono dai ma che ho messo la cicca qua ma forse l'ho messa io vuoi una cicca? no è nuova dai è nuova non è nuova non è nuova ma si cazza due minuti amore sai che mi sta sulle palle delle cicche te è morto è che è buona vedrai che è piena di gusto è piena di gusto ahia ahia dai quanto fortuna che ha visto a volta no Miami ragazzi l'ultima curva è qualcosa di assurdo per me sì questo è il circuito cittadino che è questo qua sì si mettono dietro a fare il circuito non si vede neanche dove è la pista ah adesso si vista così vabbè di paura di paura no no questa la odio questa la odio sta cacchio di essere in salita con madonna qui ce ne sono proprio coi ponti sopra che passano una cosa da niente dire sta qui alla mafia signora non mi piace ragazzi pensavo che Miami era bella ma non l'ho neanche visto fatto da loro figuratevi un po' prima grande Andrea grande Andrea primo secondo terzi vedi Miami non è stato un po' così male grande Andrea ah prevedo prevedo Andrea adesso che è primo che non ha bot ragazzi una vincita incredibile ci vuole una vincita di Andrea dai anche se è della Red Bull un po' mi girano le palle le scatole scusate mamma mia allora Kevin e Marco Drums non buttiamo fuori Andrea la prima curva perché se no ecco stiamo calmi stiamo calmi amico mio Andrea 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 io se parto meglio di te però vado non te sto a aspettare falline falline i bot mamma mia sta pizzo va che roba si ma eh Andrea è dietro lo sento sta arrivando ma Kevin non lo vedo più se Kevin hai fatto Kevin no ultimo Kevin eh i bot che lo fanno girare prevedo Andrea che arriva a breve eh urca eh 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 questo qua non lo so fare eh 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 che doveva essere il primo giro cazzo Andrea ti hanno girato ancora io tu no no ok devi eh le parlano tutti che i bot sono assurdi perché praticamente loro seguono la traiettoria la traiettoria che viene impostata da e 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 mezzo ti buttano fuori punto non hanno ancora fatto niente perché ho sentito che dovevano modificare sta cosa poi dicono dell'intelligenza artificiale di Gran Turismo eh però Gran Turismo è molto più intelligente vedi che ti fa anche passare a destra si spostano no no qua praticamente se tu sei nella traiettoria ti buttano fuori hm si no se è difficile va bene qua che qua che se tu sei qui lui arriva e ti butta fuori perché per lui la traiettoria eh tu vai un po' lento in quella curva ti butta fuori non è che frenano si c'erano problemati eh si ma perché non vedo più Andrea dietro a culo fino a qua ah ok ottimo hai registrato il nuovo miglior tempo della gara che cazzo è che mi sta fungendo eh no eh mi ho vinto eh è andata anche questa? no cosa c'è scritto? ti stai mi ricordo la città mi ammazzare e ti botto ti botto sì che Andrea e Kevin stasera fanno una letra elettronica cazzo ciao amici amici di tutti allora possiamo fare un'altra gara di Lega poi smettiamo qua con la Lega facciamo un paio di gare online io e te lui e basta senza boss proprio sono noi tre ci divertiamo perché anche Andrea se no magari poi si arrabbia cioè non c'è rabbia si si scazza andiamo eh sì è perché dovevo mettere a posto ma non l'ho ancora fatto se vedete che c'è tanta roba da mettere a posto che allora Miami è la prima volta che vinco ragazzi e non so neanche se vinco eh perché vedo quarto l'amico Andrea che sta arrivando a poco eccolo lì col giro veloce ahia ma quando esci tu puoi vedere chi sta correndo dei tuoi amici o no se ti puoi vedere chi corre ah ok ah ok eh sì un pelino però che adesso lo passo eh non lo so finiscono e che lo fa andrea che l'ha passato ah bisogna imparare un po' le piste e imparare i bot c'è nel senso tu fai la gara normale però se vedi che c'è il bot devi fare come quando diciamo online no cioè devi prevedere che ci vengano il bot si butta fuori finché non lo sistemano eh è un po' un casino ma il fattore fa che i boss fanno paura lo so già lo so già lo conosci guarda l'ultima pista che c'è stata lì l'altro giorno che ho fatto che non riuscivo a stare che sono arrivato penultimo no quattordicesimo mamma mia quella pista lì giuro Kevin non riuscivo a farla cosa è che era quello che l'ultima che ho fatto no quella dopo no 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 è l'altra austria l'austria lì Spielberg Spielberg forse mamma mia che pista la odio io la odio c'è questa roba ma non è quella di cosa di Gran Turismo l'altra è non è la Red Bull eh sì è l'altra vabbè comunque ho fatto anche un video Spielberg questo che si chiama Spielberg oh non lo so mi sa che te lo dico subito allora Andrea se ti va ne facciamo un'altra e poi magari un paio di online senza i bot eh così oh pilota del giorno Andrea grande Andrea grande 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 allora Ungheria il GP di Ungheria no quello che mi sta sul cazzo a me no sono 9-10 penso già no non ti devo dici boh ah eh quattro quinta sesta la sesta mi sembra era questa aspetta fammi vedere facciamo l'ultima Andrea Andrea sì l'ultima così dai vediamo Monaco questo che cos'è allora Spagna Spagna poi tra vai andiamo 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 ragazzi l'ultima l'ultima mamma mia dove mi ha messo l'acqua mia moglie non è che me l'ha data in mano porca miseria sempre così a me la passi per piacere l'acqua me l'hai messa in fondo la guarda lì perché non me la dai no è sempre così amo anche a tavola me la metti sempre lontano da me dammi sempre l'acqua dai 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 no davvero vai 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 ultima ragazzi persi fin anzi questa me la ricordo caspita questa è la che c'ha lì domani mattina magari faccio la live su quello dei dinosauri provo a andare a vedere il multi giocatore così vediamo un po' se è diverso da grande andrea 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 era davanti a me poi non lo vedo più perché andrea era davanti a me non l'ho visto più cosa è successo andrea registra un tempo 1,24 di spagna sto facendo un sacco di cosi del pass bello mi piace poi voglio arrivare livello 30 del pass eh eh sì sì eh beh io faccio anche le gare 50-60 giri amico mio sono 3.000-4.000 punti anche di più forse 5-6.000 punti non lo vedo più sbagliata completamente mamma mia si no questa l'ho proprio sbagliata scusa anche qui mi stavo quasi girando vai 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 amico mio strategia gioco di squadra è stata bene quella dell'ultimo grande bella Kelly ma è stato appagato brutto bravo Urca! Urca! il distacco dalla vettura che ti segue aumenta ogni giro stai facendo un ottimo lavoro il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info nooo porca loca dai riprenditi subito che facciamo primi e secondi minchia davi di brutto stai andando di brutto eh chiami minchia vi davi paga eh se lo so però se facciamo primi e secondi non è male basta lo disinstallo nooo infatti non ti vedevo più Andrea è assurdo eh eh ho notato anch'io questa cosa Andrea la settimana scorsa quando ho fatto i 70 giri in quella pista la era è stata una cosa è una cosa vergognosa vedi Andrea e anche Kevin che si continua a girare è proprio anche a livello gameplay secondo me leggo un sacco di gente che dice no è fighissimo eh invece secondo me è proprio fatto male fatto bene graficamente mi ha fatto male su anche sul gameplay eh? cosa? se Andrea guarda che Kevin era primo e mi dava paga sul pezzo misto adesso non gli giro più si si ogni curva va a sbattere ma anche a me nell'ultima gara quella di Ungheria faceva così eh dovevo proprio andare piano perché se appena appena andava un pelino più veloce mi faceva uscire questa è una cosa atroce sei all'ultimo tiro infatti sono arrivato quattordicesimo addirittura no credo che è uscito fuori perché ha scritto ha scritto che lo disinstall gli ha fatto disperare i coglioni si si? ah ok non so ha scritto eh se gli ha è una merda lo disinstallo ma non so se magari eh non lo so sarà il problema di gameplay e si gira e si gira non lo so secondo me ci sono delle volte che 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 forza che temporale si sta facendo qui da me secondo me sta attenzione eccoci qua ma sei qui vabbè almeno arriviamo dai primo e secondo dai vedo qui davanti come fantasma dai 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 arriviamo allora da quello che ha scritto Andrea credo che Andrea te ne fai un'altra o non giochi più? dimmi tu si è diciannovesimo non è uscito non è uscito non l'ha buttato fuori però probabilmente l'ha fatto cioè l'avrà buttato fuori l'intelligenza artificiale no? non hai spaccato niente? vediamo un viti con Andrea si si vediamo allora abbiamo visto Andrea arrivare Marco è inammissibile questa intelligenza artificiale lo so lo so Andrea mi sono accorto in Ungheria che ho fatto i 70 giri e sono stati più lunghi di tutta la mia vita una cosa incredibile proprio secondo me con la patch visto che io l'ho giocato tanto all'inizio con le 70 giri oh cazzo Andrea mi spiace mi spiace però ti do ragione no che non ci gioca più ho detto che ti fa troppo schifo l'intelligenza artificiale eh si capisce capiamo capiamo ti capiamo perchè quando fa arrabbiare vuoi fare una privata io te e dai facciamo una privata perchè non mi va che Andrea poi stacca una mega live di Marco Drums facciamo l'ultima privata io te e Kevin dai Andrea ciao amici come state grandissimi iscrivetevi immediatamente al canale di Marco Drums dai che arriviamo a 630 follower stasera eh se non siete già iscritti grandissimi ok una mega vittoria di Marco Drums games c'era in dov'è che siamo qua in Spagna si si mettere le mani in un gioco diventa si 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 sono pienamente d'accordo io ho comprato Battlefield ci ho giocato tre volte era una schifezza ah ok comunque resta qua in live va bene no no non gioca Kevin possiamo fare un'altra noi eh rimane comunque in live a chiacchierare con noi però si è talmente rotto le scatole che non gioca più e e ho comprato Battlefield con aspettativa pazzesca e quando hanno fatto quello schifo quello schifo che parti ed attarriva al mondo era una roba incredibile ragazzi davvero un gameplay schifosissimo ehm io volevo rimborso sinceramente però non l'hanno fatto tutti a lamentarsi cyberpunk ma cyberpunk almeno rimborso io l'avevo potuto chiedere dopo l'hanno migliorato e l'ho ricomprato per PS5 eh ma che poi alla fine non è non è non l'hanno fatto per PS5 era soltanto una 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 patch eh un upgrade ma non c'è per PS5 una patch si me lo ricordo non c'è per PS5 proprio versione PS5 eh? si ah e allora per quello che l'ho ricomprato quello che l'ho giocato bello stabile eh allora dai andiamo a Monaco che già che ci siamo facciamo schifio oh Dio mamma mia ragazzi per chiedere la serata inallegrante ma allora allora R 45 HR credo che non c'è perché da quello che ho capito però tu Kevin si eh ah bene 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 errore di sessione quando Electronic Arts purtroppo ultimamente perché ha fatto dei giochi capolavori prende in mano dei giochi non riesco a capire che cosa sta facendo questa società americana con i videogiochi che fa delle vere merde mi sembra un po' che certe società si stanno un po' scavolando per non dire cose bruttissime siamo a Monaco la lega con l'amico soul killer Kevin e Andrea ok ci sei? adesso lo fa la bot si e adesso lo fa il bot ok ah ragazzi incredibile siamo a Monaco 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 5 minuti di sole 5 milioni si si poi tu non sanga ma non vuol non 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 perca loca ho bloccato dentro la ruota nell'ultima tour prima della ponte del spinner Porca loca, ho sfasciato la gomma, proprio qui, proprio qui, ma perché, ma perché questa questa gara fa proprio cagare, e Marco Drums, oh sta giocando Andrea, grande Andy, no, è lui, Botto non può essere arrivato primo, e credo proprio di sì, sei sicuro? Sì, è lui, è lui, è lui, eh sì, non ha scritto, quindi si vede che abbiamo detto fa l'ultima e è rimasto dentro, grande Andrea, qui vedo la prima vittoria per Andrea, sei il primo amico mio, eh, sei primo, io ultimo, tu sei ultimino? Mamma mia ragazzi, uh, io ultimo raga, dalle stelle alle stralle, via, ok, all'andata, all'andata! Sto nel mezzo tipo panino, 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 cosa è successo? Alla rotta! Alla rotta! Mi hanno fatto il panino ragazzi, incredibile! Abbiamo una strategia, porco schifo, ho anche incapprettato Stroll, poverino! Beh sì, l'ho fatto, non so dosso, Stroll! Non gira! Eh no, c'è rosso! Eh, devo cercare di farla senza andare in boxe, no? Come facciamo qua con i boxe? Ciao amici amiche di Fish! Alla rotta, alla rotta per Drums! Badritta la macchina! Porca loca! Ragazzi, stai bene? Dimmi che sei tutto intero! È andata! È andata! È andata la gomma per il Marco Drums Games, è andata! Allora, sei vittorie di fila prima di arrivare al ritiro! Allora, stiamo vedendo Andrea, voglio vedere Andrea! Dai Andrea, dai Andrea! Grandissimo! Sta correndo da panico! Eh sì, eh sì, Andrea! Ma stai correndo tu, Andrea? O è il bot? Non lo so, perché Andrea mi ha scritto... Non lo so, mi ha scritto... Bot! Ah, ok, ok, Andrea! Fico! Vabbè, però il bot ti fa vincere, quindi... Sti cazzi, va bene, ci sta! Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Allora, questa pista ha fatto abbastanza paura, eh! Vediamo, vediamo, vediamo Kevin, vediamo Kevin, vediamo Kevin! Senza ala! Anche il... Cambiato l'ala, uscito, rotta ala! Eh sì, si vede, è tutta rotta! Box, box! Oh, oh, oh! È andata completamente! Andata in diretta! Ciao amici di Twitch, come state? Mega, mega live di Formula 1 con l'amico Kevin! Senza ala! Senza ala, completamente senza ala! Intanto vince l'amico... Oh, 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 attention please! Se no fai come a me che... Oh, 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 oh! I cordoli, raga! Io l'ho sbattuta qua! Io l'ho sbattuto dentro l'angolino lì! Ancora il box, dai, tanto ormai, ultimo per ultimo! Dai, dai, meccanici! Forza, gomme e ala! Forza, dai, per mettere un'ala! Forza! Forza, ragazzi! Sì, 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 a fuoco! Sì, sì, il bot è un bot! Ma si è rotto un po' le scatole, perché i bot sono veramente incredibili in questo gioco, ragazzi! Ciao, amici e amiche di Twitch! Formula 1, Marco Drano's Games, si è spattampato sul palo! Stiamo vedendo l'amico Kevin, eh! Ecco qua, questo qui è l'amico SoulKiller98, è grande, Kevin! Bravo, bravo, bravo! No, no, con il volante, G29! Io G923, Kevin G29, e G29 anche per Charder, e G29 anche per Loki! Tu non me lo ricordo, Andrea, tu c'hai il G29 e il G923, amico mio! Perché, vabbè, non so... 923, grande, grande, Andrea! No, se senti, io lo sento nell'audio del party, tac, 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 tac! Io stasera ho corso senza cambio manuale, eh, ragazzi, perché mi sono un po' rotto il cazzo del cambio manuale della Formula 1! Troppe marce da cambiare! Troppe, 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 troppe automarce, secondo me dovrebbero fare tipo monomarce! Eh, Andrea, dietro di te? Non buttarmelo fuori! Non buttarmelo fuori! Ah! Fa tipo il fantasma, diventi fantasma! Oh, raga, ho visto un'allegnata dietro, penso che arriverà un botto, un break temporale qui da me! Sì, stai diventando fantasma! Ti sta passando in mezzo! Ti ha passato! Eh sì, un po' la mano! Dai, allora, Kevin, facciamo l'ultima e poi vado a letto! Sì! Belle le riprese con la curva in quinta, hai ragione, hai ragione! Grande! Grande, Andrea! Bravissimo, bravissimo! Grande, Andrea! Grandissimo, vabbè, dovevo di vedere che vince l'amico Andrea! Grandissimo, ho schiacciato il tasto X per sbaglio, eh! Volevo vedere che festeggiavi! Eh, sì, infatti! In sto gioco qua, se volete vincere online, dovete essere un botto, ragazzi, eh! Se siete un bot, si vince! Perché è un gioco fatto dall'Eletronic Arts, è fatto un po' con i spiedozzi, l'online, eh! L'online, perché l'offline è bello, l'offline è bello, vero, Kevin? Dai, azerba, azerba! L'offline è bello, l'offline è bello! L'online, ragazzi, devono metterlo a posto, e Codemaster deve lavorare tanto, sinceramente! Addirittura, ragazzi... Eh? Sto vincendo, eh? Eh, azerba e già lo conosco, eh! Azerba e già lo conosco! Ho fatto i 70 giri e... E riuscivo a farli anche bene, Baku mi piace! Anche se è un circuito cittadino, E io preferisco i circuiti, eh, normali, non quelli cittadini! Carla sto dormendo qui, ragazzi! Mamma mia, che botta che dà! Sai che stasera... Devo togliere la... La spina della corrente, anche se c'è lo stabilizzatore di corrente, Quindi dovrebbe salvarmi luce sulle cose elettroniche... Allora, ancora il grande Marco Grounds Games deve salvare la situazione della mitica scuderia Ferrari. Ciao amici e amiche di Switch, come state ragazzi? Grandissimi! Stiamo facendo la Lega, io, il grandissimo Kevin e il grandissimo Andrea, porca! Cascitarola che legnata che ho preso dentro ragazzi, non me l'aspettavo questa qua! Per fortuna la fine... Eh, però qua è proprio il punto dove bisogna fare la manetta! Porca! Mi è partita via, dai che puro che siamo sul retilineo eh! Secondo... Secondo... Andiamo... Secondo, grande Andrea! Andrei... 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 Bacu... Bacu... Bacu! Bacu... 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 dai ma vai a cagare sì ma mi sono ribaltato dentro la gomma a che gara da cioccolato eh sì eh sì amico mio è proprio così è è proprio così da dietro è andrea se mi hai visto che sei incastrato mi ha incastrato dentro forse un burdel della madonna ma cagare eccolo 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 anche l'amico che vi abacu bakubakura curati quindi praticamente siamo fuori tutti e due ci farà saltare la gara spero non dobbiamo vederla per forza chi ha vinto andrea andrea ha vinto no perez 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 caspita ma dai facciamo un'altra andrea che è l'ultima l'ultima davvero poi vado letto perché sono già le 11 e mezzo allora facciamo l'ultima perché questa è stata deludente quanti i punti ho non è che mi stanno raggiungendo Azzo guarda perez Guarda perez Caspita non devo più sbagliare Non devo più sbagliare amico mio per si sta raggiungendo Canada mi piace dai canna da mi piace devo vincere porca ragazzi che legnato non so se vedete ha illuminato tutta la stanza La legnata che E' proprio qui oggi ho visto tre fulmini Scagliarsi vicino nei boschi a casa mia ma proprio erano tipo a 200 300 metri di quelle legnate sono arrivate a dopo forza La legnata che legnata l'avete sentita si senti il dolbotto tevin o non si sente si A presto E' proprio qui Una legnata che legnata che legnata ciSPP La legnata che legnata che legnata che legnate E' un po' come Andrea prima Che continuavano a buttarlo fuori Eh si Allora oggi Non so se sta piovendo Però ha fatto una bella oretta Un po' di buraschina Veduta giù di brutto Poi si è fermato Praticamente ha fatto un bel freschino Sì per la verità Questo fa bello freschino Però Sta andando avanti anche adesso Speriamo che faccia acqua ragazzi Perché se no qui rimaniamo senza acqua Siamo veramente fottuti tutti quanti Senza acqua siamo Siamo veramente altro che pochi soldi in tasca Senza acqua siamo veramente nella cacchina Grande drums O Perez Allora devi darmi una mano Kevin Devi tenerli dietro Perez Raggiungilo e dagli una botta Perché qui davvero Se Perez vince La vedo dura Se Perez vince Sì 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 La vedo dura Se Perez vince Olli sei bellissimo Olli Dai dai L'ultima l'ultima amico mio Dopo vi aspetto domani ragazzi Con Gran Turismo 7 Formula 1 E un sacco di altri giochi Eh Spero di essere sempre dietro Spero che sei sempre dietro Peccato perché l'Azerbaijan non la conoscevo, come si sta si, si vengono proprio addosso madonna, come sta attaccato anche Andrea, sta attaccato di brutto, sarebbe Verstappen benissimo benissimo Sento un buon presentire nel totale. Possiamo usare il DRS, DRS è disponibile. Grande Andrea, deve vincere Marco Trans vero Mico Mio? No. 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 faccia triste botta la minga scusate ma siamo in una faccia non protetta adesso quindi benissimo finora questo è il miglior tempo io ho fatto anche il miglior tempo dai così lo mettiamo in quel posto i bot che legnata che ho visto dietro raga adesso sentiremo il botto bravo 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 dai 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 abbiamo bisogno di punti è guarda che le due le due onda red bull sono sempre prime nel senso appunti appunti team appunti scuderia mi sa che sono più avanti loro di noi e io ho fatto un altro bel record grande andrea questo è per te il migliori tempi e anche la vincita nessun gioco deve deve fare così con i miei amici no all'ultimo proprio amico mio ma tu ce l'hai il gioco quello lì del camion sai quel camion lì che porta i tronchi quella roba lì perché volevo portare quello lì in live sinceramente sai quello dei trattori del camion col fango eh non hai il premium di plus che c'è incluso eh allora ce l'hai vai scaricalo ci giochiamo c'hai l'extra se ce l'hai eh ce l'hai incluso eh eh sì sì allora ce l'hai incluso vai a caricartelo adesso quando chiudiamo la live eh così ci facciamo un bel online perché è molto è molto carino quel gioco lì per giocare anche tu eh oh no sono stato di con se il trasferimento è andato a quello potrai sono stato di sconnesso eh non mi conta la cosa mamma mia che roba 151 eh secondo me no cana da ho da fare eh eh ma scusami cazzo vuol dire in corso l'evento l'ho finito sono arrivato primo me la fa rifare sì 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 mamma mia ragazzi ha chiuso il collegamento del server ha vinto vedi perché ha 151 punti e e per 122 mamma mia ragazzi l'online di questo gioco è scandaloso 8 era l'ottava gara questa vabbè allora io vi ringrazio ciao Andrea grazie di aver giocato con noi ciao Alex grazie del follower mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete iscritti ci vediamo domani per un sacco di giochi allora vi consiglio di seguire i social facebook twitter instagram tiktok e discord per sapere che cosa porto e gli orari eh se no vabbè attivate la campanellina quando vedete che ci sono se vi piace quello che porto entrate se no ci vediamo un altro giorno oh Andrea grazie davvero di del di aver giocato con noi della tua compagnia e ci vediamo domani se ci sei ok grazie Andrea grazie grazie amico mio ciao Kevin grazie della live grazie di aver giocato con me e ci vediamo domani in chat perché tu non giochi domani giusto però lunedì se scarichi quell'altro gioco possiamo giocare anche di pomeriggio eh cosa sì che c'è beh adesso lo vediamo adesso lo vediamo ciao a tutti amici buonanotte buonanotte ciao Kevin grazie ci vediamo a domani buonanotte buonanotte a tutti amici ciao 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 rimani un attimo in parti grazie a tutti